Faccio l'infermiera dal 1982, quindi sono 37 anni, ho cominciato che avevo ancora 19 anni da compiere. Io sono un dirigente infermieri. Io sono la responsabile infermieristica della centrale operativa 118 Emilia Est. Lavoro nel servizio di continuità socioassistenziale dal 2011. Sono un'infermiera di sala operatoria, sì. L'infermiere deve cercare sempre contesti diversi, anche perché i tempi cambiano. Essere infermiere è un cocktail tra sapere, saper fare ed essere. Soprattutto vuol dire sapere prendersi cura. Essere liberi ed essere eleganti ed essere anche molto energici. Il mio lavoro è fatto di sacrifici, ma prevalentemente da umanità. Chi sta pensando più o meno vagamente di fare l'infermiere, in genere nasce con quest'idea di poter essere utile. E quello che dico è non farti smontare dalle circostanze o dal cinismo che a volte si trova. E di fronte alle difficoltà sono prove per riuscire poi a diventare sempre più capace di fare questo lavoro, che è il più bello, perché se no non lo farei.